Musica Buongiorno dal Tardini con Gabriele Maio, è una sorpresa, lo trovate facile? Ma sì, intanto un saluto a tutti voi, un grazie anche a te per l'ospitalità e anche un grazie a tutti coloro che insomma in questo mese circa mi hanno espresso le felicitazioni e le congratulazioni per questo nuovo vecchio ruolo, diciamo che come responsabile dell'ufficio stampa non sono proprio esattamente nuovo ma lavato con perlana come dicono gli antichi e quindi insomma eccoci qua. Ti saresti mai aspettato di tornare qua? Ma la speranza... No, la speranza, vabbè, quella c'era sempre, anche altre opportunità potevano esserci anche state o avrebbero potuto esserci, diciamo così, il pensiero chiaramente c'è sempre stato per il semplice fatto che come dire, i numeri ci sono, modeste a parte, no, a parte gli scherzi. Sì, insomma, io credo che fosse stata una profonda ingiustizia quella che avevo dovuto subire a suo tempo. Non è persona gradita, ricordi? Che io, eh no, intanto sono tornato, vabbè, ingiustizia profonda, dicevo, il fatto che ci sia stato, che abbia pensato di rimettere le cose a posto, anche se il mio posticino l'ho ritrovato assai dimagrito perché chiaramente in serie D è un po' più stretto che non in serie A, è stata, come dire, una buona azione, diciamo così, e spero di essere all'altezza del compito. Allora, e poi ci puoi raccontare anche come si è originata quando ho tenuto in mente di fare, insomma, la richiesta, immagino? No, io non ho richiesto niente. È arrivata la richiesta, quindi? Sì, signore, no, ecco, questo vale anche per altre situazioni, sì, siccome, vabbè, c'era stata anche un po', come dire, di rincorsa perché il posto, comunque sia, è abbastanza ambito, appetibile. Io non nascondo che avevo anche bisogno, proprio fisicamente, di poter tornare nel mondo produttivo, però non ho mosso un dito che fosse uno per questo tipo di situazione. E, ancora di più, sono orgoglioso di essere stato contattato per questo. I primi contatti erano nati mesi addietro, proprio, cioè quando inizialmente si era iniziato a ipotizzare una possibilità di serie D, quindi a cavallo di marzo, cioè appena prima del fallimento. Ma era stato una sorta di pur parler, così chiedendomi, avresti eventualmente la disponibilità, come lo faresti, come non lo faresti, come la mettiamo con Staglio Tardini, perché anche quello chiaramente è stato un punto abbastanza importante del discorso. Poi la cosa è finita nel cassetto per due o tre mesi, perché chiaramente c'era da dare spazio all'ipotetico salvataggio della società con la serie B. E qui ci tengo a fare una piccola precisazione, siccome c'è qualche collega con la lingua un po' biforcuta, che viene a dire, no, tu hai avuto da dire con Corrado perché eri già in parola con questi. Allora, per te Corrado l'hai difeso fino a un certo punto anche? No, forse ho anche un po', cioè, sono pentito tra le altre cose di questo, perché io non lo conoscevo di persona, non l'avevo mai visto, però davo fiducia alla circostanza che per tre mesi queste persone avevano lavorato in un certo tipo di modo, trovando il credito sostanzialmente di tutti, dalla squadra, il capitano, ai Cura Stars, come mi piaceva chiamarli, insomma, un po' tutto il sistema. Se per tre mesi queste persone hanno lavorato, ecco, quello che io ho inteso il tradimento, e qualche frizione con i Corrado era nato proprio lì, perché io mi sono sentito tradito da loro, loro ce l'hanno rimasti male perché mi avevano detto, tu non ce l'hai mai detto al telefono quando ci sentivamo. Beh, se io vado in televisione e il conduttore mi fa una domanda, mi dice cosa pensi di questa situazione, è ovvio che è esterno quello che può essere il mio pensiero, tra l'altro credo sempre nell'ecito che se ne dica, e l'ho espresso. Poi dopo che non gliel'avessi detto il giorno prima al telefono, non vedo, cioè, che cosa cambi, mica mi avevano chiesto cosa pensi di come sono andate le cose, però io mi sono sentito tradito per il semplice fatto che ero convintissimo che chi aveva lavorato, conoscendo, o perlomeno, ipotizzando che conoscesse bene la situazione, non vedo per quale motivo, all'ultimo secondo poi l'operazione è saltata e non è chiusa. E siccome poi, così, il naso è sempre lungo, adesso l'ho dovuto mettere un po' a riposo, ho visto il nuovo ruolo, però avevo un po' fiutato delle robe che mi piacevano fino lì, cioè, del tipo, la sensazione che io avevo, non è provata e magari non è neanche andata così, però io, in coscienza, la mia verità putativa che mi ero costruito era quella che a un dato momento fosse stata quasi promessa, come dire, la serie C, no, in ambito federale, cosa che tra l'altro non sarebbe stata neanche possibile, abbiamo visto che non è stata possibile, e quindi magari era stato mollato il progetto per quello, o chissà quale altro impedimento può essere saltato fuori, perché le ragioni per cui è naufragato il discorso, no, i debiti verso l'estero, piuttosto che i contratti futuri che avrebbero dovuto essere onorati, eccetera, eccetera, erano materia che si conoscevano. E io ricordo sempre che i curatori, con il timbro del giudice erogato, avevano portato il debito sportivo a una cifra irrisoria, sotto i 20 milioni di euro, rispettando sostanzialmente il budget più o meno indicato, diciamo così, e quindi, insomma, che questa operazione non si fosse conclusa, io l'ho presa veramente come una sorta di tradimento. E dico questo, attenzione bene, nonostante appunto ci potesse essere la possibilità che si materializzasse quello che si è materializzato, però io ho spinto fino in fondo per la serie B, cioè anche contro quello che potrebbe essere un mio ipotetico interesse, perché quello che mi interessava era avere il calcio professionistico a Parma, perché comunque sia lo avrei decisamente preferito. Poi, a riprova di questo, anche se qualcuno l'aveva letto in maniera errata, come fosse stato un cavallo di Troia, a riprova di questo invece avevo suggerito addirittura, come ricorderai e come ricorderanno i nostri spettatori, e il famoso escamotaggio dei giovanissimi che erano in serie B, per tentare di recuperare in extremis, anche dopo l'interruzione dell'esercizio provvisorio, la possibilità di tenere la serie B. Non è piaciuto questo escamotaggio, insomma, diciamo. Ma, non è piaciuto a loro, però, perché c'è stato qualcuno, purtroppo c'è sempre pieno abbastanza di malelingue, che è andato a dire, ah, ma perché mai ho voluto fare un cavallo di Troia? Assolutamente, cioè, proprio io, era la dimostrazione che ci tenevo alla serie B, e quelli erano, chiaramente, questo tipo di proposta che avevo lanciato, non credo che potesse piacere particolarmente a chi invece da mesi stava lavorando per la serie D, e, tra le altre cose, ha dovuto interrompere questo tipo di percorso, proprio per lasciare spazio a chi doveva tentare per la serie B. Quindi c'è stato un grandissimo fair play. Viceversa, quando invece è iniziata l'operazione serie D, il fatto che chi aveva, di fatto, fallito la serie B, se fosse rimesso in mezzo, secondo me è andato a creare un po' di complicazioni sul percorso. Il primo verso dei giorni e delle settimane, ecco, anche nella mia opinione. Parliamo invece delle tre società per cui hai lavorato il Palme, perché, quali differenze puoi notare? Perché tra le prime società, quella fallita, il salvataggio, l'inizio della Ghirardi e questa. Beh, allora, qua adesso non ho ancora elementi... C'è qualche differenza nella mentalità, qualcosa, ovviamente la categoria influisce, però... Sì, quello è indubbiamente, adesso poi vedremo quello che sarà il cammino, però è chiaro, insomma, che abbiamo a che fare con una compagine molto seria e importante. Poi bisogna anche vedere come riusciranno le ciambelle, come riusciranno a dialogare la componente dell'azionariato diffuso con i sette big, che potrebbero diventare otto. C'è un ipotetico... No, c'era, c'è e vedremo se ci sarà. Però, vabbè, intanto parliamo delle certezze, al momento sono sette e sette ce li teniamo. E in più c'è tutta questa componente dell'azionariato diffuso, questo a proposito una piccola anticipazione, visto ogni tanto dovrà pur concedere a Staglio Tardini, a Montolk, di avere qualche notizia. Soprattutto a Montolk. No, è che... Vabbè, tra un paio di giorni, il 29, ci sarà la festa di presentazione della Parma. Con le nuove magliette? Chiamarla festa, forse è sbagliato. Comunque chiamiamola la presentazione della Nuova Parma. Ci sarà in flash la presentazione delle maglie, perché poi successivamente faremo, credo, qualcosa di più approfondito. Quindi le maglie le facciamo vedere, saranno indossate, però è più una presentazione dell'organico, proprio una presentazione della squadra. A partire... Ci sarà già il main sponsor sulla maglia? No, lì non lo mettiamo. È stato argomento di grosso travaglio, però siccome i main... Non i main sponsor sono tanti, gli sponsor sono tanti. Il main sponsor, quello davanti alla maglietta. Sì, però c'è un main sponsor, un second sponsor, il back sponsor, credo che si chiami così. Non so se ne ha messi anche sui calzettoni, scherzo. Quelli no, però sono diversi. In più, va anche considerato che un conto è la prima squadra, un conto sarà settore giovanile e un conto sarà, diciamo così, la squadra femminile. E questa è una cosa... Che viene presentata oggi, tra l'altro? Io tengo particolarmente. Sì, ci tengo particolarmente, perché a tempo addietro, nel 2007, se non ricordo male, mi era stata fatta un'intervista da Parma Daily, che è un quotidiano online qui di Parma. E ho concluso quell'intervista, mi hanno detto, quale sarà il tuo sogno? E ho detto, avere un Parma femminile. Devo dire che adesso mi stanno accontentando un po' in tutto, no? Cioè, è passato qualche secolo, qualche gestione, però appunto sta arrivando anche questa cosa, che è molto bella. Insomma, abbiamo raccolto questa occasione, abbiamo fatto un salvataggio, diciamo così, della formazione che c'era, però marchiando la Parma Calcio nel 2013, per la prima volta c'è questa opportunità di avere anche la squadra di calcio femminile, molto importante. Tra l'altro, altre curiosità, mi hanno raccontato che sarebbe obbligatorio avere, parlo delle squadre professionistiche, una squadra femminile, però poi c'è, basta pagare una piccola sanzione e si può non averla. Cioè, io credo che queste italianate siano, come dire, un po' sbagliate, no? Penso, cioè, sarebbe giusto dare spazio anche al movimento, perché io credo che anche... Giocheranno a colleghio, però. Ma qualcosa faremo anche qua, magari di dimostrativo, qui al Tardini, adesso vediamo un attimo com'è la situazione. Ci alleneranno in parte al Tardini, scusa, a colleghio, che dovremmo attrezzare però con il discorso dei riflettori, perché loro hanno degli orari differenti rispetto ai nostri e comunque, insomma, sarà una bella esperienza anche quella. Tutti insieme nello stesso spogliatoio non si può andare, insomma. Eh, ai noi no. Adesso devo ancora vedere il livello estetico di queste giochette che si chiama l'importante e che sappiano giocare bene. Poi no, perché l'occhio vuole sempre la sua parte, è quello sì. Però dobbiamo tornare indietro a... Ci siamo dimenticati un pezzo di risposta. Le differenze, no? Eh, io l'ho pensato, ho detto magari non ne vuole parlare, vado avanti. No, no, ne voglio sempre parlare, sono un bel chiacchierone, come si nota. Poi adesso ho l'opportunità di parlare, dopo tanto tempo, non ho più scritto un articolo da un mese, sono in crisi di astinenza, sapete come vanno queste cose. Vabbè, allora, io sono molto contento di quella che era stata l'esperienza iniziale che avevo fatto con l'amministrazione straordinaria, perché avevo avuto modo di lavorare con persone veramente serie, importanti, di spessore, come il dottor Bondi, il dottor Angiolini, che pur non essendo persone di calcio, erano persone di buon senso e che ci sapevano fare, diciamo così, sapevano stare al mondo e soprattutto sapevano fare di conto. e riuscire a mandare avanti senza retrocessioni, senza fallimenti. È stato un miracolo. Sì, infatti, quello che è successo poi tra marzo e giugno di quest'anno, mi fa veramente, come direbbe Leonardo, incavolare. Si sa dove sarà. Che se ne dica, a Latina dove vuoi che sia. Mi fa incavolare perché è stato buttato via veramente un lavoro che era stato fatto veramente con, direi quasi con il sangue, per certi versi. Avevamo anche difeso la categoria con il famoso Spareggio di Bologna che secondo me è stato uno dei punti più alti raggiunti nel corso degli ultimi anni a livello di emozioni anche. Ecco, pensare che tutto questo si è buttato via perché appunto è successo quello che ben sappiamo ulteriormente per chi ci ha lavorato dentro, per chi l'ha vissuto in prima persona è insomma veramente esatto. Su quella che è stata l'esperienza invece in mezzo con Ghirardi vabbè avevo avuto come dire i miei problemini dopo sono venuti fuori chiaramente in maniera eclatante con la famosa conferenza che tu avevi ben illustrato. Diciamo non c'è mai stato un grosso feeling neppure quando ero all'interno anche se poi in realtà io sono andato via per motivi molto molto banali legati a una situazione di contratto con Ghirardi che secondo me era stato molto mal consigliato lui secondo me era come Giove che sta sopra la sua nuvola e di là butta i fulmini ho sempre avuto questa sensazione secondo me uno dei suoi più grossi errori lasciamo perdere quelli gestionali era quello di non conoscere l'azienda le potenzialità del personale dell'azienda molto prevenuto secondo me nei confronti di determinate persone o che comunque insomma mi avevano fatto una sorta di proposta capestro alla quale avevo detto di no quindi non mi ha mai cacciato nessuno sono andato via io volontariamente e avevo avanzato una causa di lavoro per il semplice fatto che quando ero andato via mi era stato detto da una sindacalista ah lei Mario è quello di quel tombale io ho detto prego sì un accordo tombale cioè avrei dovuto firmare un foglio per cui non avevo niente a che pretendere per quelle che hanno state le mie prestazioni prima in cambio di un anno di contratto a tempo determinato ovviamente come ho saputo questa cosa qua mi sono sentito preso in giro e quindi ho detto no cioè qua non c'è nessun tombale né niente e se mi chiedete un tombale vuol dire che c'è qualcosa che non quaglia per quello che è successo prima ci ho guardato dentro ed è partita questa cosa che poi non è che si è andata nel miglior nei modi ma comunque lasciamo perdere perché è stata una vittoria di Piero sempre che di vittoria si fosse trattato comunque molto sanguinolenta e da allora è partita Radio Londra Stadio Tardini.it praticamente beh è partito è partito in realtà un po' dopo perché sono stato un anno secondo me sì un annetto fermo grosso modo perché allora il divorzio si era consumato a giugno del 2009 il 30 giugno del 2009 e Stadio Tardini l'ho rilevato a ottobre del 2010 perché Stadio Tardini che all'epoca era punto com era stato fondato da alcuni ragazzi appassionati del Tardini che temevano che l'impianto esatto poi terminata quell'emergenza diciamo diciamo così loro c'era Buzzi che voleva ammoletto il nuovo stadio sì un po' lui un po' sì c'erano state ma in realtà secondo me una grossa volontà di trasferimento in realtà non c'è mai stata ed erano anche in effetti pochi quelli che lo volevano e comunque insomma anche dal punto di vista imprenditoriale potrebbe essere e sono convinto sarà un bel business ristrutturare oppure radere al suolo e rifare ex novo lo stadio Tardini cioè non vedo per quale motivo uno debba andare a moletolo ogni minuto in cui sei in centro e questa è una caratteristica nostra di parmigiani che ovviamente non possiamo andare a perdere perché voglio vedere in quanti vanno a moletolo andrebbero a moletolo se ci fosse lo stadio lì e poi comunque anche le ultime tendenze a livello internazionale sono quelle di valorizzare proprio gli impianti nel territorio soprattutto nelle città a misura di par e quindi niente loro non sapevano più come mandare avanti questo sito ma mi hanno chiesto se ero interessato io a quel punto lì ho detto ma si va là proviamo cioè ho tentato proprio quindi niente di programmato niente tutto molto casuale e queste cose a me piacciono perché vuol dire che c'è una mano che guida e che tutto sommato forse un pochettino mi vuole bene al di là delle sofferenze che uno può aver patito e e poi sì dal punto come era diventato punto it quando avevamo fatto un certo tipo di restyling ed è stato credo il simbolo no di quello che poi è successo perché inizialmente qualcuno che poteva credere a a a a a a a di che che fosse un nemico poteva anche esserci perché c'è stato fino a pochi mesi fa c'è stato ah certo e quindi di conseguenza se se lui era abbastanza amato idolatrato io non è che poi fossi proprio così ben visto poi quando le cose sono andate in un altro tipo di modo c'è stata una sorta di contrapasso dopodiché io dico sempre adesso non è che mi illudo di essere l'idolo delle folle perché so perfettamente che che appunto è una palla che gira e prima o poi ci sarà ancora qualcosa da ridire sicuramente ma voglio dire siamo qua le spalle sono larghe non proprio fisicamente perché potrei essere un po' più curato dal punto di vista sportivo però dal punto di vista della schiena dritta adesso c'è anche la palestra c'è il collecchiello è troppo troppa fatica sì a proposito abbiamo parlato del rapporto tra le società e il rapporto tra i tifosi negli anni com'è cambiato quindi adesso adesso sembra pace fatta ho visto andare sotto la nord durante l'intervallo mi hanno acclamato ti hanno applaudito io ero lì ho sentito un applauso uno uno eri tu eri ero io a parte gli scherzi i rapporti con i tifosi secondo me si ricollega a quello che stavamo dicendo prima cioè è palese che nel minuto in cui passi per essere alternativo rispetto a una società che comunque è stata molto amata anche se secondo me non è che fossero stati capaci di coinvolgere molto il pubblico però i risultati c'erano quindi uno diceva va tutto bene e di conseguenza un po' quello poi vabbè purtroppo ci sono anche molti luoghi comuni perché alle volte a me vengono a dire ma per il tuo hai parlato male della curva o dei boys in realtà uno non è che parla male hai voluto fare proprio l'intervista sulla nord apposta certo uno mangia è chiaro che uno dice le cose come stanno cioè nel senso che se uno fa le cose per bene o meglio faceva le cose per bene io sottolineavo che erano state fatte le cose per bene se erano fatte delle cose per male io sottolineavo che certe cose erano fatte per male chiaramente per quello che poteva essere il mio sguardo e la mia vista senza prevenzione né niente perché per me una volta che una cosa è stata detta è chiusa lì senza ricordarsi eternamente ah ma tu quella volta hai detto tu quella volta hai fatto io sono abituato per formamenti e per l'attività che facevo a giudicare direi minuto per minuto per certi versi e quindi a dire le cose come stanno in quel momento poi non è che le situazioni si devono incancranire o avercelo con qualcuno cioè paradossalmente anche il discorso con Ghirardi e Leonardo di cui sembrava come dire l'antitesi cioè se Ghirardi e Berlusconi ero travaglio per certi versi in realtà le cose sono le cose erano anche un po' diverse perché io la buona fede gliel'ho continuata a riconoscere anche dopo vedendo determinate situazioni cioè forse sono stato il più il più molle o il più tenue dopo che sono emerse determinate cose anche perché voglio dire io la mia vittoria tra virgolette l'avevo già ottenuta no? cioè i fatti dicono determinate situazioni perché infierire cioè io io non uccido un uomo morto no? ecco questo era un po' il punto adesso veniamo un po' alla società adesso so che non ti puoi sbottonare troppo perché magari insomma ci saranno delle cose che si possono dire altre cose che non si possono va meglio così non lo so per il nostro pubblico femminile guardate che per quanto riguarda gli abbonamenti ci si aspettava questa grande risposta di pubblico c'è qualche timore che questi seggiolini che vengono comprati rimangano vuoti? rispondo a titolo personale più che non a titolo societario in questo caso allora io sono convinto che la percentuale di occupazione sarà 1 a 4 cioè secondo me nelle partite normali lasciamo perdere la prima secondo me sì cioè la media credo sì fai anche 3.000 però il problema è che soprattutto in Curva Nord laddove è stata fatta la promozione a 25 euro allora da un lato a fin di bene era stato interpretato come dire do un aiuto al Parma e faccio questo piccolo abbonamento da 25 euro però in realtà io non so quanto sia stato in effetti un aiuto perché hai dato 25 euro certo però se non vieni poi a occupare la tua poltroncina sempre allora dopo lì potrebbe diventare un problema e io ho sentito tantissime persone dal collega giornalista che andrà in tribuna stampa e di conseguenza non sarà in curva da quello che sta a New York piuttosto che a Tokyo che ovviamente non saranno presenti poi c'è da dire che per fortuna la percentuale così almeno mi è stato detto anche degli abbonamenti online sottoscritti era tra l'80 e il 90% grosso modo di parmigiani quindi teoricamente questi potrebbero venire quindi forse la mia è una previsione un po' pessimistica però così l'ho calcolata in questo tipo di modo ed effettivamente sarebbe brutto avere teorici tra gli 8 e i 10 mila abbonati e poi le presenze ridotte anche se comunque rimane lo stesso tanta roba perché comunque sia abbiamo superato l'anno scorso sì direi di sì forse già anche adesso secondo me però l'anno scorso c'erano beh sì la differenza sta ancora attorno agli sponsor adesso non ho bene idea di quanti siano quest'anno però i paganti dell'anno scorso erano stati abbondantemente superati con grande anticipo già da mossi sì quello sì incredibile questa cosa che in D si faccia più abbonamenti che in A allora io dopo lì non voglio essere impopolare però è chiaro che il sottocosto qualcuno mi ha biasimato perché l'ho chiamato così però anche lì bisogna spiegare le cose e cercare di farsi capire anche dal grande pubblico cioè quando uno parla di sottocosto intende dire un prezzo venduto al di sotto di quelle che potrebbero essere le condizioni normali ho fatto altri altri paragoni così con il mondo commerciale dei supermercati per esempio quando dicevo abbiamo fatto 6.000 abbonati circa di curva contro i 4.000 che avevamo pensato allora quando le scorte finiscono anche gli sconti finiscono perché tanti dicono ma perché non avete aperto la Sud a me sarebbe piaciuto anche proseguire con quell'onda lunga di 1.000 abbonati al giorno io non so è chiaro che quando abbiamo staccato la spina tra virgolette di quell'offerta poi è ovvio che un po' si si è affievolita al di là dell'entusiasmo perché abbiamo poi riaperto con le tribune laterali qualcosa si è fatto lì però non devono essere fatte delle scelte emozionali devono essere fatte delle scelte insomma anche ponderate e vedere che tutto quagli cioè se noi pensavamo 4.000 abbonati a 25 euro siamo arrivati a 6.000 cioè io credo che lo sforzo societario sia stato perché poi sono costi in più maggiore pubblico sì cioè alla fine vabbè di là ci cambia poco perché quello che cambia è l'apertura dei settori e vabbè il discorso degli steward e quant'altro però aprire un ulteriore settore in più è chiaro che porterebbe ancora a complicanze in più ma magari adesso ipotizziamo che prendiamo il top player e decidiamo di riaprire la campagna abbonamenti perché c'è grande entusiasmo che lo sa arriverà il top player certo sì sì ce n'è uno sotto eccolo qua vorrei vederti giocare una volta no no lascia stare adesso guarda giriamo la telecamera prendiamo la palla e vediamo come te la calci no perdo tutto quel poco credito che ho sempre a proposito di offerte per gli abbonati per i tifosi Sky ci siamo cose fatte si sta aspettando lo chiedere la serie di sì quotidianamente su Stadio Tardini mi pongono questa domanda se lo chiedo appunto per questo perché poi io do sempre delle risposte un po' interlocutorie anche perché abbiamo poco da aggiungere rispetto a prima il punto è questo tra la satellitare e la società l'accordo era già stato raggiunto da diverso tempo nei minimi dettagli però dovete tenere presente che siamo praticamente a fine agosto appena finito appunto ferragosto la gente via e quant'altro però soprattutto il problema tra virgolette principale è che i diritti radio televisivi in serie D come Domodossola sono gestiti centralmente dalla Lega Nazionale dei Lettanti per cui l'accordo deve passare al vaglio e lì ci sono i cosiddetti tempi romani da rispettare non troppi problemi comunque non dovrebbero essere direi di no anche perché se ne era parlato però è chiaro che bisogna sempre aspettare e vedere l'orso la vendiamo quando è stato abbattuto comunque siamo ottimisti ma sulla trasmissione delle partite è solo in casa o anche in transfer secondo me potrebbe essere entrambe entrambe le situazioni poi è chiaro che qui al Tardini siamo decisamente più attrezzati per fare un certo tipo di produzione televisiva che chiaramente c'è appunto anche un certo tipo di costo e tutto in esterna non faccio nomi di campi minori però ce ne sono anche qua vicino c'è uno va a vedere c'è l'opportunità di piazzare delle telecamere insomma un po' più complesso però credo che sia una opere in entrambe le situazioni sempre a proposito di cose consiglio chiedere e regolamenti della serie D i nomi sulle maglie non verranno messi? no a meno che non vengano fuori modifiche regolamentari effetto di questo accordo però direi di no al momento così come per la serie C e la serie D la numerazione è quella tradizionale dall'1 all'11 più le riserve senza nome sulla maglia si cercherà magari di tenere gli stessi numeri per quelli che giocano più o meno ma io credo cioè secondo me però si torna al calcio di una volta è più bello no quello sicuramente ecco mi rimane l'incognita degli orari nel senso che una delle cose belle sarebbe quella di poter giocare sempre alle 15 o addirittura alle 14.30 che quando io ero bambino e tu chissà dove eri io non c'eri tu non c'eri alle volte si giocava anche alle 14.30 qui al tardi e no non so se per effetto in effetti del discorso dell'accordo con Sky se ci possa essere qualche spostamento d'orario perché è chiaro che non so fino a che punto allora possa far gioco avere il Parma in contemporanea alla Serie A o viceversa comunque vediamo è viceversa certo portiamo via un sacco di pubblico un'altra cosa sabato vabbè ho visto la partita c'è stato un grande assente chi era l'Aida ah beh no lì vabbè motivi di carattere tecnico diciamo così secondo me sì credo di sì e anche l'inno c'è problemi di copyright perché copyright magari non sarà stato registrato adesso questo allora ci sarebbero stati anche prima perché c'è stato tutta una serie di passaggi quindi ci sarà anche l'inno ma vediamo perché sull'inno so che che le grandi menti stavano studiando qualcosa non lo so però sulla marcia trionfale direi che sono più l'inno all'Avangelis esatto no vediamo vediamo cosa succede a me piacerebbe cioè credo che tutte le tradizioni debbano essere tra l'altro appunto ci sarà uno speaker che dirà Bulova Acutrono poi abbiamo contattato l'Anna Maria Bianchi per fare la speaker no scherzo però vediamo vediamo cosa succede vediamo se riusciamo a rispettare le tradizioni il più possibile ok torniamo invece al sito allora due siti il primo il sito della squadra quando sarà disponibile punto di domanda allora anche qua ogni tanto con qualche lettore su stadiotardini.it ci polimizio io ho visto quelle che erano le domande maggiori ho detto adesso ti richiedo hai fatto bene anche perché non rispondo mai no scherzo no allora il discorso del sito del sito societario in realtà come dire l'embrione è pronto sì la costruzione c'è si tratta solo di riempirlo di contenuti però a questo punto vabbè la rosa ormai è quasi fatta quindi come scusa non so se la posso utilizzare ancora manca il bomber lo sto facendo perché così spingo stadiotardini scherzo no allora non avendo ancora una rosa definitiva non avendo la possibilità di fotografare fisicamente i giocatori con la nuova maglia che appunto sveleremo soltanto a suo tempo non avendo ancora un calendario un inizio di una data certa ok abbiamo appunto lavorato sull'ossatura sul vestito diciamo così però poi si tratta di metterci dentro anche tutto il resto dei contenuti allora i casi erano due o uscivamo fuori e tra l'altro io ancora non facevo neppure parte dell'organico in occasione della prima conferenza quando è venuta fuori Parma Calcio 1913 e tra l'altro ci tengo a sottolineare Parma Calcio 1913 e non solo Parma 1913 come dicono in tanti in maniera erronea Parma Calcio 1913 o venivamo fuori subito o a questo punto non ha senso venire fuori per dire oggi o anche il giorno della presentazione il 29 nei minuti in cui non abbiamo non abbiamo i contenuti allora c'è uno dice ma cosa avete aspettato fino adesso per cosa quindi ogni tanto c'è qualcuno che mi stimola e mi pungola tipo un certo Michele che dopo mi scrive Zipese no Michele Zipesti cioè et lo spieghedank bello questo dialetto è giusto perché comunque siamo sempre a parlo quindi questo questo quindi il sito ufficiale che comunque poi verrà fuori a suo tempo la tua craturina adesso? dunque aspetta prima della mia craturina non bless oblige devo anche parlare dei social che invece quelli sono in funzione siamo partiti un po' in sordina anche lì non abbiamo ufficializzato più di tanto però abbiamo già un certo tipo di riscontro i social sono già operativi praticamente da pochi giorni l'inizio dell'attività e ci tengo a dire un bravo un grazie a Giuseppe Squarcia che collabora con la struttura del sottoscritto per quanto riguarda soprattutto l'aspetto dei social che lui alimenta in prima persona in modo molto emozionale e completo tra l'altro ci tengo a precisare che è stata una scelta che ho voluto anche in prima persona con un po' di continuità proprio avendo apprezzato quello che era stato il lavoro fatto in precedenza e di conseguenza credo che sia un ottimo come dire acquisto anche se poi in realtà c'era già comunque l'abbiamo recuperato e poi lui tra l'altro anche perché ha come ruolo primario anche questo del rapporto con i tifosi quindi è veramente figura importante e i social li sta curando e li sta curando molto bene quindi la comunicazione ufficiale passa attraverso quello e in parte diciamo così attraverso stadiotardini.it che sta supplendo diciamo così all'assenza del sito ufficiale poi cosa succederà per il momento ha una doppianima Stadio Tardini in parte quella precedente di sito di stimolo di confronto e di dibattito con qualche contenuto che però si alterna con quello che prongo io in prima persona che però è comunicazione aziendale cioè io adesso mi rendo conto comunicato ufficiale sì comunicati ufficiali le interviste i siti adesso magari qualche pezzo lo scriverò anche però è ovvio che non posso tirar fuori l'anticipazione dietro alle quinte l'indiscrezione in anticipo rispetto a situazioni che non avrebbe senso però ci tengo a ringraziare la proprietà che mi ha consentito di tenere il sito lasciandomi nel limite della decenza la possibilità che fosse come prima quindi appunto di stimolo di dibattito di critica propositiva costruttiva diciamo così che verrà fatto però da un'altra tipologia di autore e non da sottoscritto salvo fatti eccezionali o salve commenti però già detto in precedenza io continuerò a mantenere il dialogo con il pubblico attraverso lo spazio commenti e appunto la supervisione generale dal momento che il sito stadiotardini.it è di proprietà del sottoscritto e ne sono anche il direttore responsabile quindi comunque questa è la situazione salvo sviluppi perché poi allora io adesso ho accettato questa opportunità che mi è stata posta e che logicamente mi fa un grandissimo piacere per tutte le motivazioni che abbiamo detto all'inizio però che stadiotardini.it dovesse cambiare pelle rispetto a quello che era prima lo sapevamo già era comunque inevitabile perché era finita la sua missione diciamo sì che poi in realtà io non vorrei che si pensasse che fosse uno strumento ad hoc per tra virgolette combattere era un giornale di informazione di dibattito ai quali altri appunto Ghirardi e Leonardi mi davano ampio stimolo per poter esercitare questo come dire questa critica propositiva diciamo così però non era una competizione un essere conto io l'ho sempre detto tant'è che quando il Leo tra virgolette lui era molto bravo a fare i muro contro muro i duelli rusticani io li ho sempre rifiutati ma non è che scappavo per vigliaccheria o che una delle mie più grosse vittorie era stato quello di portarlo invece al tavolo del confronto con le mie regole di ingaggio perché quando lui veniva in televisione e spiegava le cose al di là di qualche supercazzo che ci metteva però era per me era importante perché accettava di fare comunque un qualcosa di costruttivo cioè non il duello ogni volta invece che la buttava con la provocazione ok io mi ritiravo in buon ordine e poi dopo al limite appunto riattaccavo attraverso il sito dicevo stadio3d.it aveva esaurito comunque la sua missione chiamiamola così e comunque avrebbe dovuto reinventarsi l'opportunità del fatto che io sia entrato all'interno della società offre comunque immediatamente questo tipo di soluzione e comunque andava cambiato cioè non aveva senso continuare esattamente con la stessa linea di prima anche se io non fosse arrivato in società cioè sperando che non ci offrano mai stimoli per andare in un certo tipo di modo e comunque poi voglio dire sempre qua solo quindi è una minaccia attenzione no però però sanno anche bene loro che si sono tirati dentro una rasa io ogni tanto glielo dico sono un bel rompito i balle chi ve l'ha fatto fare ma si però se uno lo sa leggere bene è un'opportunità anche questa perché al di là di tutto ho certe problematiche ho certe cose che se uno gliele dice anche prima cercano di se mi danno retta fai la spia interna quindi si diciamo spia nel senso automobilistico spia automobilistica ah no spia no pensavo anche la cia no faccio il grillo parlante interno ma che era poi quello che facevo in parte anche durante l'epoca Ghiradi che vabbè lui l'aveva insomma lo prendeva forse come l'esa maestà o comunque dava fastidio avere una situazione del genere tra i piedi prima e spero anche dopo è diverso in questo mio spirito credo sono stato chiamato sono stato chiamato per quelle che sono le mie altrimenti come quelle donne che vogliono cambiare fidanzati mariti compagnia maiscola si avrebbe sbagliato uno deve essere quello che è io faccio di tutto per essere quello che sono tra l'altro altro sassolino che volevo togliere qualcuno dice no ma perché tu hai detto hai fatto obbligato allora fino alla notte prima praticamente del mio ingaggio cioè su Stagio Tardini sono usciti degli articoli anche piuttosto scomodi e critici nei confronti dell'attuale e l'accordo ce l'avevo già questa testimonianza di quella che l'onestà intellettuale che c'è stata e poi anche ultimamente non nascondo che qualche difficoltà la posso aver avuto perché magari qualche mio autore un po' critico nei confronti di qualcuno lei è destrati a tua immagine somiglianza quello sarebbe bello anche se è scomodo dal punto di vista dell'ufficio stampa però diciamo importante insomma mantenere la critica deve essere ci deve stare deve essere fatta in modo intelligente qualcuno ogni tanto magari cerca lo scontro frontale o agisce per antipatia e questo non è assolutamente nel mio stile e non mi sta bene che ci sia dentro il sito indipendentemente da un discorso di equilibri che comunque hanno mantenuto cioè secondo me è un esperimento interessante questo alla fine perché credo che però comunque tornerai a scrivere di meno ma tornerai a scrivere eh ci devi pensare prima hai detto che tornerò a scrivere qualcosa ogni tanto ogni tanto ma per esempio sulla storia del calcio femminile avevo in testa da 3-4 giorni un articolo poi alla fine non sono riuscito a farlo per mancanza di tempo perché ci tenevo a farlo appunto ricordando quell'intervista che ti avevo detto il mio vecchio sogno raccontando quindi faccio un articolo orale raccontando per esempio giovedì eravamo a Fontevivo con Scala che ha ricevuto questa onorificenza per altissimi meriti sportivi e lì nell'occasione c'era la dirigente del calcio femminile ex giocatrice che ha fatto un intervento in quel contesto durante questo consiglio comunale all'aperto e Scala ha promesso di andare a vedere le partite del calcio femminile quindi volevo costruire un qualcosa partendo dal mio vecchio sogno attraversando questo e presentare l'appuntamento di oggi pomeriggio poi non so se riuscirò a farlo a tempo di record o meno altrimenti insomma l'abbiamo fatto l'ultima domanda con te l'educato è finita è finito un amore lì allora Stadio Tardini sono riuscito a salvarlo tra virgolette sperando appunto che possa mantenersi questo discorso perché non si sa mai il discorso calcio e calcio c'è proprio anche per equità e giustizia non posso permettermi di farlo anche proprio per però ti mancherà Boni ecco c'è da dire no proprio assolutamente forse è l'unica cosa buona no è chiaro allora io se Michele Angela mi inviterà come ospite andrò andrò volentieri però sarò un ospite istituzionale quindi tutto sommato allora io ci avrei tenuto a salutare il pubblico non c'è stata questa opportunità pazienza però in effetti forse meglio così perché presentarsi in un modo diametralmente opposto rispetto a quello che si era probabilmente non era il massimo anche perché poi io mi conosco adesso ho concesso a te questa lunga chiacchierata perché avevo bisogno di confessarmi diciamo così tu sei stato un bravo sacerdote ti metto il colletto bianco ti assolvi esatto però sì presentarsi lì dove fino al giorno prima facevi delle critiche dopo poi andare là subito a fargli ingessato anche che mi tra i nato di fiori insomma sì ci vuole in effetti sì è giusto che ci sia che ci sia un certo tipo di stacco proprio perché sono due mestieri diversi cioè se prima facevo come vamo dire l'attaccante adesso faccio il portiere sono due ruoli diversi insomma avevi già giocato in porta quindi sì sì ci avevo già giocato discretamente bene ho collezionato qualche presenza sono finito anche in nazionale quindi io ti ringrazio per questa intervista salutiamo il torino tardini salutiamo a tutti ma sei sicuro che siamo venuti a registrare spero di sì perché vado lì vedo il puntino rosso c'è il puntino rosso quindi esatto penso se invece ci siamo fatti tutta questa chiacchierata non hai mai fatto tipo la radio una volta e dire cavolo ma forse nessuno mi sta ascoltando sto parlando al muro e poi magari poi magari ti arriva un ascoltatore che ti scrive e dice ah no ok allora per qualcuno ho parlato beh allora lì andiamo indietro nel tempo io avevo fatto una radio che era così un radio pilota eco radio e che era come dire una radio sperimentale no assieme a tutte le altre radio grosse eccetera questo era un mio piccolo gioco diciamo così che però alla fine ci eravamo cavati anche delle belle soddisfazioni perché in un certo periodo eravamo la radio in assoluto più più forte sul territorio ma per territorio non intendo soltanto Parma ma intendo anche tutto il secondario però abbiamo messo un ripetitore sul Monte Cimone e uno sul Monte Maddalena di Brescia era un periodo che il compianto Carlo Dratkin che ci faceva da direttore all'epoca si era svenato noleggiando questi mega ripetitori per fare un discorso di carattere politico che aveva in testa voleva insomma cercare di recuperare attraverso delle dirette di carattere politico le spese però prima che partisse questo progetto era successo cosa che avevano chiuso una serie di radio nel bolognese tra Serra Mazzoni e Monte Calderaro ce ne traccia in una canzone di Vasco Rossi che dovrebbe essere l'ultimo domicilio conosciuto se non ricordo male che parte a seguito della notizia di un giornale radio a seguito del si cantivasco adesso no lì era un annuncio radiofonico quindi potrei anche quasi cimentare come diceva a seguito della chiusura dei ripetitori pa 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 88 radio sono state chiusi voce a tutte quelle radio lì la diede Radio Pilota Eco Radio attraverso questi due mega ripetitori che non erano stati chiusi perché erano ovviamente fuori dalla zona diciamo così calcolata da quel pretore la causa erano presunte interferenze all'aeroporto di Bologna e poterono trasmettere attraverso di noi quindi insomma era stato bellissimo essere il megafono veramente di tantissime voci però prima di arrivare all'apice che era stato quello è chiaro insomma che la radio era stata anche a livello embrionale tante volte erano degli impiantini piccolini e in effetti quando ti arrivava la telefonata singola eri già contento o anche quando ti arrivava qualcosa non è una palestra individuale ma qualcuno lo stesso ragionamento vale anche per stadiotardini.it per certi versi perché quando siamo partiti appunto nel 2010 è chiaro che non avevamo questo top di commenti che abbiamo raggiunto durante il periodo caldo che c'erano certi articoli e 500-600 commenti cioè non dormivi la notte di accettare tutti moderatore insomma ti ho visto provato in quel periodo infatti a parte che sono dimagrito adesso si vede che era lo stress i gradienti sterili forse 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 quello però comunque è stato un simbolo di passione anche proprio è stato anche il simbolo secondo me del passaggio credo che nel suo piccolo questa piccola navicella appunto questo veliero corsaro pirata scegliete voi insomma qualcosina fatto indipendente indipendente sì quello sì senza bandiera ecco insomma va bene dai allora ti ringrazio ti diamo appuntamento alla prossima puntata del Muntalk per quanto ci riguarda e sempre buona dottorio su Stadio Tardini allora a questo punto grazie mille e a presto grazie ciao ciao